Ciao a tutti e benvenuti a TDD, io sono Annalisa Poletto, una web designer e io Sonia Procopio, una graphic designer. Siamo le fondatrici della Pongo Design e Pongo Design Web. È una realtà genovese che si occupa di comunicazione per aziende un po' più strutturate, ma anche per piccole realtà. Ci siamo conosciuti in un'agenzia di comunicazione a Genova e abbiamo subito instaurato un rapporto lavorativo basato sulle nostre competenze, su una complicità e su un'affinità di pensiero che ha portato alla decisione di aprire la nostra realtà a Genova, ma operiamo anche in altre città italiane. Crediamo fermamente nell'importanza delle competenze individuali nel lavoro di squadra, anche perché fare comunicazione richiede la compartecipazione di diverse figure professionali. Ad esempio, se parliamo di web, un sito web non deve essere soltanto bello, ma deve naturalmente essere trovato, deve essere ben posizionato sui motori di ricerca, deve rispondere efficacemente alla concorrenza, deve lavorare in modo adeguato nel corso del tempo e, cosa importante, deve essere anche il frutto di una pianificazione più completa che tiene conto di una brand identity solida e strutturata. Per questo motivo la nostra realtà lavorativa si basa sulla collaborazione tra diversi professionisti che lavorano per un obiettivo comune, che è quello di rispondere alle esigenze del cliente e affrontare ogni progetto mettendo a frutto le proprie competenze personali. Quindi ognuno di noi svolge il proprio lavoro al meglio per un obiettivo comune, come dicevo prima, che è quello di fare una comunicazione di successo al 360 gradi. Riusciamo a fare questo grazie a un'esperienza di collaborazione di team che ormai dura da tantissimi anni. Genova è una città attiva con diverse realtà lavorative. Come dicevo prima ci sono aziende un po' più strutturate che hanno magari bisogno di rivedere la loro immagine aziendale o realtà un po' più contenute dove hanno bisogno invece di emergere in modo comunicativo. La Pongo Design risponde a entrambe le esigenze in modo professionale. Infatti vedrete nel video alcuni dei nostri progetti e vi consigliamo di andarle a vedere magari in modo un po' più approfondito sul nostro sito web. Grazie a tutti. Ora ringraziamo TDD per questa esperienza e inoltre ringraziamo voi per l'attenzione prestata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.